Nominata la commissione che si dovrà occupare dell'esame delle istanze che dovevano essere presentate entro le ore 12 del 4 gennaio per la selezione della figura di responsabile della comunicazione e dell'animazione, nell'ambito del progetto del comune nisseno Central City Lab, che prevede la realizzazione di un laboratorio digitale avanzato a servizi e supporto dell'innovazione sociale e organizzativa delle terre del nisseno, si legge nel documento, e focalizzato su tecnologie e servizi adeguati ad un territorio epicentro dello stile di vita mediterraneo, progetto da finanziare con fondi europei previsti nell'azione del GAL. Con questo progetto, che è stato poi ammesso a finanziamento, il comune di Caltanissetta ha partecipato all'avviso del GAL Terre del Nisseno, che intendeva infatti informare il territorio dell'iniziativa volta alla costruzione del Living Lab delle terre del nisseno, si precisa ancora, e invitare i soggetti appartenenti alla quadrupla elica, cioè le pubbliche amministrazioni, le istituzioni locali, le scuole, le università, le imprese, la società civile, gli enti del terzo settore, le associazioni, il sistema della ricerca e i ricercatori, in possesso di specifici requisiti, a manifestare il proprio interesse a partecipare all'iniziativa e alla successiva attività di progettazione partecipata e collaborativa, a portare il contributo di idee e di conoscenze utili e necessarie alla definizione dei contenuti del progetto esecutivo dell'intervento Living Lab, impegnarsi alla realizzazione di tutte le successive fasi del Living Lab, sottoscrivendo un apposito accordo o protocollo di intesa, e infine si legge ancora, partecipare all'eventuale progettazione esecutiva. Quando si parla di Living Lab ci si riferisce ad un ambiente esperienziale in cui gli utenti sono immersi, vivono per l'appunto in uno spazio creativo. Si precisa ancora nella determinazione da cui nasce la progettazione sociale e prendono vita i servizi e i prodotti del futuro.